iniziano a lampeggiare le quattro frecce, due di qua e due di là come ripeto in maniera speculare dopo lampeggia l'apertura dei vetri per tre secondi e poi rimane la luce ferma che sta a indicare che il vetro è aperto poi parte la sirena che potrebbe come ripeto essere collegata anche al clazzon della macchina e in ultimo parte Arduino che invia dei messaggi, cinque messaggi, cinque sms che possono essere anche in un numero maggiore e possono essere anche vocali un bip come questo che potrà salvare la vita di un bambino in macchina sarà infatti legge l'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i piccoli di età inferiore ai quattro anni il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del nuovo codice della strada che cerca di prevenire tragici abbandoni nelle auto una misura che si spera possa mettere un argine ai tragici fatti di cronaca che si sono verificati recentemente in tutta Italia e anche in provincia di Arezzo nel giugno 2017 Castelfranco di sopra infatti aveva perso la vita una bambina di appena un anno e mezzo dimenticata in auto l'obbligo di installazione dei seggiolini sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale nei prossimi giorni il governo attualmente sta studiando anche agevolazioni fiscali per l'acquisto di questi dispositivi sul seggiolino salva bebé ci dovrà essere un sistema d'allarme che connesso allo smartphone ricorderà il guidatore tramite un segnale sonoro la presenza del piccolo passeggero ancora a bordo prima che esca dal veicolo a Bibiena alcuni anni fa erano stati gli studenti dell'istituto Isis Fermi a ideare e realizzare un seggiolino salva bebé ribattezzato poi ricordati di me prevede vari tipi di allarme e vari livelli dall'azionamento del clacso, lampeggio delle frecce, apre i vetri in caso per areare l'ambiente e dopo se non bastasse invia anche dei messaggi, degli sms al babbo, la mamma, lo zio, al nonno